Ha patteggiato una pena di tre anni il necroforo dipendente di Azimut che sottraeva denti d'oro e gioielli alle salme, al forno crematore di Feenza e rubava elementi decorativi dalle bare. L'uomo, cinquantenne originario di Imola ma residente a Feenza, davanti agli inquirenti si è sempre giustificato pensando di non far nulla di male. Le protesi che ripescava da residui di cremazione sarebbero andate comunque perse, destinate ad essere trattate come rifiuto speciale. 235 le protesi che l'uomo aveva prelevato nel corso del suo operato, vendute poi a comproro della città per procurarsi il denaro necessario per l'acquisto di cocaina. Il cinquantenne era stato arrestato lo scorso 5 marzo dai carabinieri di Feenza che nel suo armadietto avevano trovato 130 grammi di oggetti in olio parzialmente bruciati, tra cui una decina di denti e parti di bare. Altri decori e oggetti cimiteriali furono ritrovati nell'appartamento dell'uomo. Al processo, Asimut, titolare del forno crematorio, si è costituita parte civile per la cifra simbolica di un euro. L'indagine era partita da una verifica dei registri dei comproro della città, sui quali compariva puntualmente sempre lo stesso identico nome e la consegna di oggetti di pochi grammi.